Come abbiamo creato un nuovo laboratorio di osservazione del tema infrastrutturale in Italia? Partendo dall'osservazione che in Italia, in Europa in generale, esistono molte risorse destinate a opere e infrastrutture che però paradossalmente non riusciamo a spendere. Perché non riusciamo a spenderle? Perché esiste una scarsa qualità a livello progettuale che quindi non permette, non dà fiducia agli investitori, non dà fiducia a chi deve metterci le risorse e quindi facciamo fatica a finanziare le opere che hanno tutta una serie di carenze. Banalmente alcuni esempi che sono eclatanti. La metro C di Roma ha dei grossi problemi nella realizzazione di un ultimo tratto perché non sono stati considerati, ad esempio, per una serie di problemi di carattere tecnico e progettuale. Perché? Perché non sono stati considerati, diciamo, gli imprevisti, nella fase di progetto, gli imprevisti legati ai ritrovamenti archeologici, che sappiamo essere una banalità a Roma, diciamo una cosa all'ordine del giorno. Altro esempio eclatante è l'autostrada A12. Sono anni che cerchiamo di farla, da circa 20 anni. Lì sono stati problemi di localizzazione dell'intervento, quindi una carenza di nuovo in fase progettuale. Poi abbiamo, ad esempio, l'opera più nota a tutti sui giornali, la TAV, che non si riesce a fare perché c'è stata sempre in fase progettuale una scarsa attenzione alla gestione del consenso. E quindi, diciamo, è proprio il tema della progettualità che blocca la realizzazione delle opere, non come si pensa spesso quello delle risorse. E voi avete fatto delle proposte per favorire questa progettualità? Sì, diciamo, abbiamo due livelli di proposte. Una rivolta più ai policy maker, quindi interventi che permettono, diciamo, a livello normativo, di migliorare le condizioni per progettare le infrastrutture. Per fare questo abbiamo osservato quello che esiste all'estero, quello che c'è negli altri paesi, e che non c'è in Italia. Beh, innanzitutto, un primo punto è una, diciamo, forte attenzione negli altri paesi, e meno qui in Italia, alle fasi a monte, quindi alla fase di pianificazione, e alla fase di inserimento delle opere infrastrutturali all'interno di un obiettivo di lungo periodo. Quello che manca in Italia è proprio una visione di lungo periodo che permette poi anche più agevolmente di realizzare progetti. Altro aspetto molto importante, ad esempio, è la previsione in altri paesi di una fase di valutazione delle opere con criteri oggettivi, ad esempio attraverso anesi costi benefici, e questo permette di, diciamo, valutare la bontà, l'utilità dell'opera dal punto di vista sociale, economico e ambientale, anche in relazione alle risorse che sono disponibili. Vi è poi una maggiore attenzione negli altri paesi a aspetti tecnici. In Italia c'è una sovrapproduzione di norme che regolano la gara, che regolano tutti gli aspetti burocratici, quindi gli aspetti di procedure, gli aspetti di autorizzazione, e poca attenzione agli aspetti tecnici, alla definizione dei criteri tecnici. E questo chiaramente va a scapito della qualità dei progetti. Quindi quali sono le nostre proposte? Banalmente vanno in risposta a questi problemi. Quindi occorre maggiore attenzione alle fasi a monte, occorre adottare strumenti e criteri di valutazione della bontà delle opere, occorre innanzitutto stimare meglio costi e tempi dei progetti, ma anche occorre adottare strumenti di monitoraggio più attento, occorre predisporre meglio le gare con dei capitolati che vincolino di più le imprese a quello che devono fare. Questo per quanto riguarda i policymaker. Per quanto riguarda invece gli aspetti più operativi, abbiamo avanzato un modello di project management che potrebbe aiutare le imprese nella realizzazione e progettazione delle opere, le pubbliche amministrazioni nella fase di pianificazione, ma anche i soggetti finanziatori nella scelta e valutazione delle migliori opere in cui allocare le risorse. Questo è un modello standardizzato e strutturato che permette ai decisori di valutare un enorme mole di informazioni in modo da prendere delle decisioni che siano fondate, corrette e soprattutto irreversibili. Cioè permettono di non tornare indietro sull'iter causando poi gli aumenti di tempo e di costo. Questo nostro modello si basa su tre elementi fondamentali, quelli che abbiamo chiamato i fattori chiave, che sono i profili di rischio dell'opera, quindi sono gli aspetti tecnico-progettuali, la gestione degli stakeholder, la gestione del consenso, la gestione degli aspetti finanziari. Tutti questi elementi devono essere, secondo noi, valutati in tre fasi che li approfondiscono via via in maniera più approfondita. Quindi una prima fase in cui vengono individuate le caratteristiche di rischio del progetto, una seconda fase in cui queste caratteristiche di rischio vengono approfondite e dopodiché si procede alla individuazione degli migliori strumenti di gestione, una terza fase in cui appunto si implementano gli strumenti di gestione e si procede con il vero e proprio progetto definitivo dell'opera. L'ultimo elemento importante è il momento decisorio. Il momento decisorio deve essere certo e deve essere irrevocabile. Cioè nel momento in cui si decide se l'opera deve andare avanti o deve bloccarsi, non si può più tornare indietro sulla decisione assunta. Questo modello, come detto, permette di valutare tutta una mole di informazioni notevole e questo permette anche di realizzare un rating delle opere infrastrutturali. Un rating che si affunzione banalmente dell'importanza dei diversi fattori chiave, della modalità di gestione, di come sono stati gestiti questi fattori chiave e di tutta una serie di elementi di contesto come l'area in cui viene realizzata l'opera, il settore in cui viene realizzata l'opera. Questo permette di arrivare quindi a una valutazione sintetica molto utile per i soggetti finanziatori per allocare in modo corretto le loro risorse. Grazie a tutti.